amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo una macchina che veramente un capolavoro di ingegneria italiana devo dire che veramente questa è un alfa che ben poche volte abbiamo avuto oggi ne abbiamo tre in officina devo dire che sono una più bella dell'altra quindi abbiamo queste giulio quadrifoglio verde abbiamo da da consegnare l'alfa 4c e poi l'ultima che la 156 col motore busso quindi ci concentriamo su questa come dicevo questa è una giulia quadrifoglio verde motore straordinario fatto in collaborazione con ferrari quindi un 2009 v6 biturbo da 510 cavalli questa è la versione prima del restyling dove hanno fatto determinate alcune migliorie in maniera particolare il disorso del motore l'ha portato da 510 e 520 cavalli 600 newton metri di coppia i valori che sono veramente incredibili sono la velocità non è autolimitata questa riva a 307 chilometri all'ora e fa uno 0 100 in 3 9 e uno 0 200 in quasi 13 secondi pazzesca trazione e cambio posteriori cambio manuale a 6 marce quindi diciamo che ricalca quello che era l'ultima trazione posteriore di spessore che era la mitica alfa 75 in sostanza quindi nella prima alfa del nuovo corso con la trazione posteriore le caratteristiche di questa macchina oltre al motore con cavalli veramente incredibili hanno lavorato benissimo sui pesi perché hanno alleggerito la massa per cui abbiamo il cofano il tetto e lo spoiler posteriore in carbonio oltre all'albero di trasmissione che chiaramente non riusciamo a farvi vedere l'albero di trasmissione che è un elemento che ha una massa considerevole in carbonio veramente pochissime macchine lamborghini o ferrari hanno questo genere di di elementi in carbonio quindi la dice lunga su quello che è lo stile la cura che hanno svolto su questa macchina qua diciamo che le concorrenti più logiche di questa macchina sono a livello di prestazioni a livello di prezzi a livello di caratteristiche sono la bmw m3 e la merced della c 63 mg che ha in grosso modo gli stessi cavalli queste sono le sue concorrenti più dirette altre caratteristiche di questa macchina peso ripartizione dei pesi 50 50 50 anteriore 50 posteriore quello che è veramente incredibile è il sistema dynamic dove una la possibilità mettendolo su race di avere un diciamo una conformazione una la possibilità di di regolare quello che chiamano lo chassi dinamico in sostanza andando a lavorare sul la ripartizione del differenziale autobloccante posteriore lo splitter anteriore che si abbassa lo splitter in carbonio quando lo mette su race si abbassa automaticamente per tenere il muso più schiacciato a terra e le sospensioni elettroniche che ovviamente acquisiscono una una diversa taratura e l'ultima l'ultima chicca è il display dove non ho mai visto un display con l'indicazione addirittura della temperatura dei freni cioè nel display viene indicato se i freni sono freddi se la temperatura è media o se sono diciamo arrivate una temperatura oltre la quale è meglio farli raffreddare quindi diciamo che queste in sostanza sono le le caratteristiche questa macchina in più la peculiarità di questa vettura che ha i freni carboceramici qua si vedono perfettamente la pinza gialla un po stile porsche porsche adotta appunto il colore giallo per differenziarsi dall'impianto diciamo standard anche se chiamarlo standard è già un ufemismo però il colore giallo indica appunto la soluzione carboceramica qua si vede un disco veramente dimensioni incredibili scomponibile e flottante quindi è un veramente un disco di caratteristiche veramente incredibili arriva proprio la pinza si vede arriva proprio a filo filo del cerchio quindi hanno utilizzato tutta la diciamo la dimensione possibile all'interno del cerchio sono arrivati a rasentare proprio il millimetro per mettere il cerchio più grande possibile ovviamente con così come il disco carboceramico ovviamente anche la pastiglia sarà carboceramica per avere lo stesso copiamento per avere una come dire un limite di temperatura decisamente superiore a qualunque impianto frenante sportivo uno possa mettere quindi questo veramente una chicca di questa macchina qua allora al di là di questo quello che noi abbiamo fatto è stato un controllo una messa a punto generale della macchina che comunque si presentava già in perfette condizioni e poi il cliente ci ha chiesto di intervenire su quello che è il sistema di apertura e chiusura delle valvole perché questa macchina chiaramente un impianto disco sportivo di serie dalla macchina comandato da delle valvole diciamo che come tutte le macchine tante macchine hanno questo sistema e di solito questo sistema viene attivato cioè l'apertura delle valvole avviene nel momento in cui si utilizza il tasto race cioè macchina diciamo su su tasti diciamo più comfort o o di media andatura le valvole sono chiuse e lo scarico ha una certa forno assorbenza nel momento che uno mette su race e questo diciamo non solo su questa ma anche su tante altre attività che abbiamo visto cioè le mijo cooper works le bmw m3 le mercedes a 45 35 mg cioè tante macchine sportive hanno questo sistema nel momento in cui omette il manettino su race sulla diciamo sullo step sportivo si aprono le valvole e a questo punto la come dire il flusso dei dello scarico e diretto come avere quasi uno scarico diretto quindi la rumorosità cambia in maniera notevole con questo nuovo sistema che si chiama avm della della seletron performance si riesce a intercettare il meccanile il comando elettronico delle valvole e a comandarlo con telecomando per cui uno può tranquillamente non utilizzare il manettino race e tramite telecomando può avere la sonorità sportiva anche con la selezione più più blanda diciamo così adesso mirko vi farà sentire le due le due alternative la differenza di rumore a questo punto parte dalla diciamo della sonorità standard e nel momento in cui sentirete la differenza sonora non è perché abbiamo agito sul manettino ma perché col telecomando abbiamo autonomamente aperto le valvole ok vai pure e quindi ecco quindi come avete sentito la differenza di rumore è notevole partiamo sempre dal concetto che è un impianto di skyco stock per cui si potrebbe ulteriormente migliorare andando a lavorare su alcune parti mettendo dei silenziatori un pochino più piccoli quindi la sonorità che avete sentito con la valvola aperta che già la sonorità molto corposa si può migliorare in maniera ulteriore a questo punto andando a cambiare una parte o tutta la linea di scarico con questo sistema diciamo che il cliente può in autonomia scegliere di avere la propria velocità indipendentemente dal fatto di mettere il manettino race perché in città mettere il manettino race non ha molto senso diventa quasi scomodo diciamo a livello di reattività della macchina quant'altro quindi spesso e volentieri tanti ci hanno chiesto questo tipo di modifica e con un semplice meccanismo elettronico una piccola centenina elettronica si riesce a intercettare la linea che va ai due motorini quindi il risultato è quello che avete sentito per qualunque informazione non so non solo su questo tipo di di nuovo sistema elettronico mi potete contattare tranquillamente in sede quando volete per qualunque informazione sono disponibili dal lunedì al venerdì vi chiedo di cliccare sulla campanella in bassa destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima